Cari amici ben ritrovati. Oggi sabato, siamo sempre all'interno della sedicesima settimana del Tempo Ordinario. Tuttavia la liturgia oggi celebra una memoria particolare, la memoria di Santa Marta, allargata qualche anno fa da Papa Francesco alla memoria dei Santi Marta, Maria e Lazzaro, questi tre fratelli che conosciamo nelle loro vicende in modo particolare per il momento della risurrezione di Lazzaro, quando Gesù visita le due sorelle nel dolore e si avvicina poi alla tomba e fa risorgere Lazzaro. Invochiamo il dono dello Spirito Santo. Chiediamo su di noi che lo Spirito ci possa donare l'intelligenza delle scritture. Ancora una volta voglio cogliere una preghiera allo Spirito dalle poesie scritte per l'anno liturgico da Alin Fiorot. La preghiera di oggi si intitola Fermento di Speranza. Spirito Santo, che nasci dalla croce, sorgente di vita nuova, fermento di speranza venuto a donarmi la fiducia di non essere mai stato abbandonato. Il sangue di Cristo possa scorrere nelle mie vene, rifugio per i dispersi, comunione con il creato, lingua di pace che parla all'anima. Le letture di questa giornata, di questa liturgia, di questa memoria, sono letture proprie, per cui oggi lasciamo da parte il Vangelo di Matteo che ci ha accompagnato nei giorni scorsi e andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 19-27. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse, tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Allora il dialogo tra Gesù e Marta riportato in questo brano di Vangelo fa parte dell'episodio della cosiddetta risurrezione di Lazzaro. Qui emergono gli atteggiamenti opposti tra Marta e la sorella Maria. La prima mostra un carattere più dinamico e concreto, che qui si manifesta nell'andare subito incontro al Signore. La seconda, sempre descritta seduta e in ascolto del Maestro, resta in casa. Marta associa in qualche modo la morte del fratello all'assenza di Gesù, in quel momento, ma conferma anche la propria ferma fiducia in Lui, quale mediatore infallibile davanti a Dio. E inizia così un bellissimo itinerario interiore, che la condurrà ad una professione di fede pienamente cristiana, passando attraverso la dichiarazione della sua fede nella risurrezione dell'ultimo giorno, conformemente, tra l'altro, alla tradizione giudaica. È Gesù stesso che la guida in questo percorso, con un'espressione che è tipica delle rivelazioni di Dio, io sono. Il Signore fa comprendere a Marta che la vita da Lui donata supera anche la morte. Egli risurrezione e vita crea in chi lo accoglie una condizione nuova, una condizione definitiva. Come in tutto il Vangelo, anche qui Giovanni ricorre a dei termini forti e gioca sul doppio significato. Dando la propria adesione a Gesù, si passa dalla morte fisica alla vita definitiva, a quella eterna, perché colui che in vita avrà creduto in Lui, non subirà la condanna all'eterna separazione da Dio. Con queste parole, il Signore si riferisce al destino ultimo e nello stesso tempo evidenzia che attraverso di Lui il germe della vita eterna è già presente all'interno del credente. Egli non si limita a rivelare a Marta queste verità, ma le chiede in maniera esplicita quale sia la sua posizione di fronte a queste, dandole modo di manifestare pienamente la sua adesione alla persona del Maestro, ora riconosciuto come il Messia atteso da Israele e come il Figlio di Dio. Santa Marta è presentata dai Vangeli sempre in movimento, sempre donna efficiente, donna sicura di sé. E talvolta questo l'ha portata a farsi prendere troppo dalle cose da fare, a perdere forse di vista il senso del suo affacendarsi. Davanti a Gesù però ella capisce che l'efficienza non è il valore più alto, ma che l'importante nella misura in cui è equilibrata dall'accoglienza, dall'atteggiamento e dal timore di Dio, l'importante è quanto il Signore le rivela. Santa Marta non si relaziona al Signore solo facendo qualcosa per lui, ma si pone in un atteggiamento di verità, un atteggiamento di dialogo, di dialogo profondo. Gli si mostra così com'è addolorata da un lato per la morte del fratello, delusa per non essere stata esaudita, ma dall'altro lato salda, sicura nella fede. Pur non vedendo soddisfatta immediatamente la sua preghiera, ella non se la prende con Dio, non si chiude al suo mistero, non dubita della sua bontà. Piuttosto si mette in ascolto del Signore e diventa in questo molto vicina alla sorella e entrambe sono in ascolto della parola di Dio, in ascolto della persona di Gesù. Mettersi in ascolto di Dio e della sua parola come Marta significa vivere e vincere i momenti di incertezza e di dubbio, viverli in profondità, ma mettersi anche in gioco. Anche a noi il Signore chiede un'adesione personale. In molti passaggi della nostra vita credi tu questo? Marta ha dato la sua risposta. Ciascuno di noi è chiamato a dare la propria risposta davanti a questa domanda, davanti a questo desiderio che la vita ci riserva di comprendere se veramente il Signore è per noi via verità e vita, in profondità, nei momenti cruciali dell'esistenza. Signore, ci viene da dire, tante volte di fronte alle difficoltà della vita la nostra fede vacilla. Ci lasciamo assorbire dalle mille cose da fare per sfuggire alla disillusione e al vuoto interiore. Oppure tante volte siamo tentati di nascondere le nostre paure costruendoci una fede su misura, rigidamente attaccata a principi che ritengono indiscutibili e che vorremmo al riparo da qualsiasi turbamento. Insegnaci, Signore, ad aprire la nostra fede come Santa Marta, come Santa Maria, ad aprire la nostra fede alla Tua parola imprevedibile, a essere disponibili all'incontro autentico con Te, in cui le nostre false sicurezze cedono il posto alla fiducia delle Tue promesse. Non permettere, non permettere davvero che il ritmo frenetico delle nostre giornate ci travolga al punto da non essere più ispirati dall'amore. E soprattutto non lasciare che l'esperienza del dolore ci allontani da Te. Rendi la piuttosto esperienza feconda di risurrezione e di vita. Maria, Marta e Lazzaro ci siano modelli nel cammino della fede. Siano esempio di una famiglia di fratelli unita nell'esperienza del dono, dell'accoglienza, ma della fede forte nei confronti del Signore Gesù. Allora questa esperienza che loro condividono con noi, questo nostro chiedere la loro intercessione, diventi preghiera, diventi richiesta di aiuto al Signore per la nostra giornata ed essi intercedano davvero per noi nel cammino della fede. Il Signore ancora una volta benedica il nostro incedere, rafforzi la nostra speranza e alimenti la nostra carità e la sua benedizione accompagni l'intera nostra giornata, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, buona giornata, buona domenica e buona nuova settimana a ciascuno di voi. Grazie a tutti.